Il Real Trinaglia non si ferma più e inaugura dicembre come il mese precedente. Travolge senza appelli il Real Gela per la cronaca 12-0 al seminario, abbattendosi come una furia sull'avversario già nel primo quarto di partita. E in anella la quinta vittoria consecutiva che lo trascina al secondo posto del girone di allievi regionali con 19 punti. Dal 28 ottobre ad oggi con Spartiacque la vittoria sulla Catane ex capolista e oggi superata in classifica, l'undici guidato da Mario Pulvirenti non ha conosciuto ostacoli e da quasi fanalino di coda è arrivata, un traguardo che con la giusta dose di fiducia potrà solo essere migliorato con Palazzolo fuori e Invictus, super scontro diretto in casa prima di Natale all'ultima d'andata domenica 17 dicembre. 120 secondi per l'1-0, rimessa di Guarnaccia a testa di Di Stefano per Amaru, assist per San Filippo che entra in area e porge a Solimene la palla del vantaggio. Secondo gol in campionato per Emiliano Solimene dunque 1-0 per il Real Trinacria. I gelesi provano a pareggiarla nell'immediato ma si fermano su Aurora che di testa allontana un pericolo in mischia e poi su Butano che blinda la porta sfodrando una gran parata sotto la traversa. La partita degli ospiti finisce qui di fronte allo strapotere dei catanesi che al nono raddoppiano sull'asse Rizzotti di Stefano, fuga verso la porta e dribbling su Doleo che vale il 2-0. L'autore del gol va vicino alla doppietta su angolo di Amaru, pallone alto mentre Solimene cerca la solo ma viene fermato sul palo dal portiere dopo questa giocata in un fazzoletto di terreno. Imitato poi Solimene a metà tempo da Guarnaccia lanciato da tre filetti, ancora corner per il Real, stavolta però dal lato opposto. Al trentatresimo il 3-0 Aurora, lungo dalle parti di Di Stefano che è quasi in fotocopia del precedente, sigla la doppietta, rete che vale come una discesa verso la goleada, infatti tre minuti più tardi, cioè dire al trentaseiesimo, Ecora riceve da San Filippo e crossa per Di Stefano che fa 4-0 e tripletta in tapin. Un dialogo tra Vinci Prova e Amaru, vice e capitano, innesca poi San Filippo che al minuto 40 con un destro sporcato dal portiere segna il gol del 5-0. Quinto centro della partita, quinto per il biondo, centrocampista di casa quest'anno. Alla quarantatresimo tornano a parlarsi le punte del Real Trinacri e su assist di Solimene. Di Stefano sigla il 6-0 che manda tutti negli spogliatoi per il numero 9 del Real e il gol numero 6 in stagione. La ripresa non cambia volto prima degli altri 6 acuti, vediamo altrettante opportunità firmate da Solimene in avvio, poi da Di Stefano su fraseggi veloci di tre filetti Amaru e Solimene. Nel frattempo si vedono in campo Gurrieri e Pappalardo, primi due cambi effettuati da Mario Pulvirenti che poi manda in campo Andò, qui autore di una chance costruita in asse con Solimene intorno al quarto d'ora. Momento in cui entrano in campo anche Peruso, Antolino, Laporta e Farruggio che realizza una doppietta nell'arco di pochi istanti per poi ripetersi nei minuti finali, siglando quindi tre reti. Prima dal vertice del triangolo Amaru che scambia con Pappalardo e consente a Farruggio di ribadire a rete una respinta del portiere. Poi, ovvero al minuto 68, sfruttando al meglio un'iniziativa di Ecora che serve Amaru, palla a Solimene. Rasoterra intercettato e ripreso da Farruggio che va in gol dunque per l'8-0 e segna i primi due gol personali dell'anno. E per lui non è finita qui. Al secondo tentativo Andò fa centro e per lui è il primo di quest'anno su assist di Solimene. Un gol che giunge al minuto 70. Quattro minuti dopo e con un altro, stavolta con manovra più elaborata a cura di vinci prova, Solimene e Farruggio. Il Real va in doppia cifra a un quarto dal termine con la doppietta di Eduard Andò. Rimane il tempo di vedere un altro gol di Solimene che va così in tripla personale, così da raggiungere quota tre reti in questa prima metà di campionato. Per poi dettare l'assist in condivisione con Andò per mettere in condizioni Luca Farruggio di piazzare anche lui una tripletta. Insomma, finisce così con 12 reti per il Real Trinacria. Per la cronaca, palo di Solimene e altra chance di Andò, tanto per chiudere in maniera esagerata questa domenica e attendere di proseguirne altre con lo stesso entusiasmo.